Signor Sindaco, i idee e progetti hanno dato il via alle attività all'interno dell'amministrazione comunale di Castrofilippo. Quali sono queste attività e quali saranno quelle future? Nell'immediato abbiamo avviato, proprio nei giorni scorsi, delle borse lavoro, che stanno dando la possibilità di lavoro a sette unità di Castrofilippo in servizi di pubblica utilità. Poi abbiamo i cantieri di servizio, abbiamo presentato tre cantieri di servizio che potrebbero dare l'opportunità di lavoro a ben 30 soggetti. Naturalmente lì aspettiamo l'approvazione e quindi la decretazione da parte dell'assessorato regionale competente. Poi anche il Consiglio Comunale si è dato da fare in questi mesi, ha adottato nell'ultima seduta un importante atto deliberativo che consente alla comunità di Castrofilippo di vedersi raddoppiati i loculi al cimitero. Cioè abbiamo dato la possibilità di utilizzare i loculi a monumento, quindi fosse a terra, non più per una sola sepoltura ma per due sepolture. E poi abbiamo fatto una variante del piano regolatore del cimitero che consente l'utilizzo di uno spazio sinora non utilizzato per la realizzazione di loculi a colombari. E lì avremo altri 80 loculi per le sepolture. Questo darà sicuramente uno sfogo in avanti per non avere più difficoltà di trovare un loculo nel nostro cimitero comunale. Sono stati presentati anche dei progetti, dei bandi. Vuole comunicare magari ai cittadini la modalità per potersi presentare o cosa fare in merito? Sicuramente queste cantiere di servizio danno l'opportunità ai cittadini di presentarsi presso l'Ufficio Solidarietà Sociale per presentare la domanda di partecipazione per la selezione che poi sarà fatta. Poi abbiamo anche in cantiere, presenteremo nei prossimi giorni, un grosso progetto di risfrutturazione della scuola elementare di un milione e mezzo di euro che consentirà al Comune di Castrofilippo di vedere risfrutturata l'attuale scuola elementare, ma non solo, perché è annessa alla scuola, c'è la palestra che è totalmente distrutta e un campetto che è stato utilizzato nel tempo per il calcio a 5. Assieme a questo noi abbiamo dato il via e nei prossimi mesi si vedrà in opera questa attività tutta una serie di aggiudicazioni per circa 800 mila euro che riguarda la risfrutturazione di strade interne ed esterne e in particolare del viale Bonviglio che vuole essere il fiore all'occhiello della nostra comunità.